signora speriamo che arriva presto questa telefonata sì perché ho lasciato l'usinella solo a casa quello se non mi vede arrivare incomincia a smaniare ci viene la malingonia no signora non è un'amica è meglio di un'amica ma è una gatta sì e quando è bellissima sera quando torno se me ne avvicinavo vicino le cosci e fa il virus non è che è bella mamma e se è così sa qui è sa pace ma ci sono un coppia e cosci e ci mettiamo per una poca la televisione però ci ha mai cucato e questa è la vita certo se non tenesse a esse a esse a volte mi sento così sconsolata ma esso lo fa scuola tutte cose brutte la vita signora a volte mi metto a fare i corredini per bambini sì sì un po di tempo libero e metto a fare i corredini e sapete cosa faccio sì però non ridete ci misurano quella russonella sì e prima volta ci mariavano e voleva essere ammisurata ma poi si è convinto poi ci piace pure a essa che stavo dicendo sì e che io signora mi vergogno un po a dirlo io ho fatto una grande sciocchezza tre mesi fa ho messo l'annuncio sul giornale e sto aspettando la risposta sono tre mesi e questa risposta non arriva ancora perciò vi ho chiesto in favore a voi di aspettarla qua tramite la telefonata ma però io oggi sono sicuro che arriva questa telefonata me lo sento sono sicura sì signora e voi il fidanzato ce l'avete no ma come signora ma non dite così ma come veramente ma non ci credo